Ah e poi non ve l'ho detto, è vero, non ve l'ho detto a voi ragazzi, l'ho sprenato solamente a Ila Giusto perché volevo sentire un po' più di dolore Martedì a mezzogiorno l'appuntamento del totatore Sì sì raga, tutto di improvvisamente, cioè ieri ho scritto il totatore dicendogli se poteva farmi una bozza di una cosa che gli ho chiesto Oggi era libero, mi ha fatto la bozza e ho preso subito l'appuntamento, instant proprio Dov'è un solo? Iii, dove sei? Non muoio, tenete Rimo Buona vita 82 dal dietro, un altro tempo No, non ci credo Ma non ci guarda Vai dire mai? La protezione è importante, Mike, ok? Avevo messo un barrione, forse puoi sfruttarlo Fede pescata, fede pescata Ahia, così aggressive Sì, mettali lì Sfattinata per il sbaglio, 125 Va bene Buonasera Non stavo trollassi Così mura Molto buona Eh ma sta cosa ha fatto Dopo 18 a uno e tipo 18 all'altro Questo gli ho fatto doppio Si è fatto un pesce Dai, non fare così Che ti boxi, ti prego Apri se le palle Ti pari da che un duo quando lo batto io 72, quello blu Ok Full pizza Non mi sono trovato uno E io giù 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 Stai sola Un'altra arriva da dietro, aspetta 50 Mi sa che sono matta No, morto lui Trovo il mate magari Sicuro Caccato Oddio, meno male Mi stava per fare Oh, qua è siccome una bella partita Eh, siamo ancora un sacco Andiamo qua che troviamo qualcuno sicuro Va bene, andiamo Non so se è Eccolo Eccolo qua, sì Ma che sta facendo questo? Non lo so Lo sta ballando Fatta volta 18, craccato 188 Arriva anche l'altra, attento Sono morta Ok, non sono morta Non so cosa voglio fare 70 80 Ah, ma la sto fincando Mario 90 90 Fulcita Fulcita Un drago Ok No, però Ne porto Fulcita C'è un knock C'è un knock Se lo butto lì Ehi, con calma per favore Grazie Ah, bomba mi dico A posto Ok Che cosa? 100 134 C'è uno nel box 206 Tappate il tuo 50 50 No, no, vero Ho scappato Vivo Si è a posto, no? Un attimo Sì, sì Sono c'era Ma io no che l'ho preso Mi sa di no, però Michele Non so Quello che intendi Guardate, lo bombi Sta Alessandro Mi sa Dove essere il simbolo De la cura Si, ovviamente Si, sopra Ehm, esa posto Si Sono ancora più sopra Sì È proprio qua Mato Prima Arrivederà Ehm, mi sapevo di sì Quindi il mio l'ha restato Perché una kill non mi è arrivata No, no, no No Eh, mi sono indicato Non sei capace Dove sono? Eh, sulla 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 C'è capirai Sì Mi riguarda questi Arma bilanciata comunque Eh, se non metti il mio tallo Poi però Eh, ma ero Ero bloccato un attimo Stavo mangiando No C'è un pezzettino di cioccolato Mamma mia Dalle ore E la diciamo Se non l'ha rotto proprio Non da loro Fa rift qua sotto Questa è una giusta osservazione A cui effettivamente Non avevo pensato Aspetta Sì, sì Vai a venderla pure C'è l'intico a prendere questa arma 20 109 Cato, morto 730 Il prendo dietro Il prendo dietro Tela balla Ok, vado a seguire quello là Penso tutto doppio Ho preso la card del mate Che abbiamo ucciso Lì? Ventiraio? Da 7 metri L'ho fatto Sbomb house Cos'è? C'erano partiti cheat Cosa? C'erano partiti cheat Che mi hai per carri? Ah, hai messo il fuoco amico Hai sbagliato il gioco Eh, esatto È perché guarda I cheat ero Quelli di tiktok Che ti vendono I cheat in bio Capito? Quindi Mi hai messo il fuoco amico Ah, certo Guarda Tu lo faresti? Eh, andiamo a partecipare allora Orco! Tentato Pezzo, ma tremmi Dietro la roccia Neanche Heidi Ma tutto bene Full box Ciao guardate Psicopatico Arriva l'altro Oh mio Dio Cosa ho ancora fatto? Niente Andavi Ma quello lì di te la roccia Mi ha fatto cagare addosso C'è manco la serata horror Ma tutto bene Che fai Dora che succede Durante i tornei Vieni qua Stacchio venerdì Ti parlerò con la bocca strana Sempre si parli Vabbè non può essere peggio Dell'ultimo torno Che abbiamo fatto No Peggio di quello Non può essere Dio buono